Benvenuti nel mondo degli orologi Gigandè. Charles Gigandè è un marchio di orologi fondato nel 1959 in Germania. Il marchio ha dovuto affrontare la cessione nel 1998 alla Victorinox Watch S.A. e, come succede a molte piccole aziende, spari definitivamente nel 2000. Nel 2011 il marchio Charles Gigandè venne poi nuovamente registrato dalla nuova proprietà Blanche Fontaine S.A., che risollevò il nome Gigandè portandolo ad avere una reputazione come produttore di orologi di precisione di alto livello. Gigandè produce orologi per uomo e donna, con una vasta gamma di stili e funzionalità per soddisfare le esigenze di tutti i gusti. Tra i modelli disponibili troviamo i classici orologi da polso automatici, come il modello Sea Ground, ideale per gli amanti delle immersioni subacquee. Oppure il modello Race King, un cronografo sportivo, resistente all'acqua fino a 100 metri. Molti dei modelli di Gigandè includono caratteristiche come cassa in acciaio inossidabile, vetro zaffiro antigraffio, cinturino in pelle o in acciaio inossidabile e resistenza all'acqua, il tutto a prezzi accessibili senza rinunciare alla qualità. Il marchio Gigandè è oggi presente in tutto il mondo, ed è diventato un punto di riferimento per chi cerca un orologio di qualità ad un prezzo competitivo. Grazie ai suoi prodotti di alta qualità, Gigandè ha guadagnato la fiducia di una vasta clientela di appassionati di orologi. Se stai cercando un orologio affidabile, elegante e di alta qualità, Gigandè è sicuramente una scelta vincente. Grazie alla sua attenzione per i dettagli e alla sua lunga tradizione orologera, Gigandè rappresenta un'opzione ideale per chi cerca un orologio svizzero di qualità a un prezzo accessibile.